Salve ragazzi, la lezione di oggi riguarda il calcolo delle probabilità. Cominciamo con parlare degli eventi. In particolare possiamo dire che un evento si dice aleatorio se non possiamo sapere in anticipo se si verificherà oppure no. Facciamo un esempio. Supponiamo di lanciare un dado. Come sappiamo in ogni faccia del dado è presente un numero che può essere rappresentato dal numero 1, 2, 3, 4, 5 o 6. L'evento esce il numero 6 è un evento aleatorio perché può verificarsi oppure no. Infatti lanciando il dado può spuntare uno o qualsiasi dei numeri compresi fra 1 e 6. Invece se considero l'evento esce un numero minore di 7, questo non è un evento aleatorio in quanto questo evento si verificherà con certezza. Infatti tutti i numeri presenti nelle facce del dado sono numeri minori di 7. Allo stesso modo l'evento esce un numero maggiore di 7, anche questo non è un evento aleatorio in quanto è un evento che sicuramente non si verificherà. Infatti tutti i numeri presenti nelle facce del dado sono numeri minori di 7 e quindi è impossibile che questo evento si verifichi. Allora adesso diamo la definizione classica di probabilità. Per calcolare la probabilità di un evento possiamo fare il rapporto fra il numero di casi favorevoli all'evento e il numero di casi possibili. Che cosa vuol dire? Supponiamo di lanciare un dado e consideriamo l'evento esce il numero 3. Nelle facce del dado c'è una sola faccia che contiene il numero 3 ma ci sono 6 facce diverse del dado e pertanto i casi possibili sono 6, invece i casi favorevoli è rappresentato solamente dalla faccia contenente il numero 3 quindi è solamente una. Allora l'evento esce il numero 3 a probabilità 1 su 6. Questo quindi è un evento aleatorio che può verificarsi oppure no e la sua probabilità è rappresentata da un sesto. L'evento invece esce un numero minore di 7 e è un evento che ha come casi favorevoli tutte e 6 le facce del dado perché in tutte e 6 le facce del dado sono presenti numeri minori di 7 e quindi il numero di casi favorevoli è 6 così come il numero di casi possibili e pertanto la probabilità dell'evento esce un numero minore di 7 e è dato dal rapporto 6 su 6 che è uguale a 1. Questo evento come abbiamo detto prima non è un evento aleatorio ma è un evento che si verificherà sicuramente e per questo motivo è detto evento certo. Allo stesso modo l'evento esce un numero maggiore di 7 e è un evento che non ha casi favorevoli infatti nelle facce del dado non è presente nessuna faccia contenente un numero maggiore di 7 pertanto i casi favorevoli sono 0 mentre 6 sono i casi possibili. La probabilità di questo evento è pertanto 0 fratto 6 cioè 0. Questo evento che non può mai verificarsi è un evento che è detto impossibile. Allora osserviamo che la probabilità di un evento è sempre un numero compreso tra 0 e 1 perché i casi favorevoli non possono mai essere più dei casi possibili. In particolare questa probabilità varrà 1 se l'evento è certo varrà invece 0 se l'evento è impossibile. Vogliamo adesso calcolare la probabilità dell'unione o somma logico di due eventi. L'evento unione di due eventi A e B è l'evento che si verifica quando si verifica almeno uno dei due eventi. Che cosa vuol dire questa frase? Allora supponiamo di lanciare un dado e consideriamo l'evento esce un numero pari. Questo evento esce un numero pari ha come casi favorevoli il 2, il 4 e il 6 perché soltanto questi tre numeri sono i tre numeri pari presenti nelle facce del dado e i casi possibili sono 6 e pertanto la sua probabilità si ottiene facendo il rapporto 3 su 6 e quindi un mezzo. Consideriamo adesso l'evento B esce un numero multiplo di 3 in questo caso i casi favorevoli sono 3 e 6 perché soltanto 3 e 6 sono i multipli di 3 contenuti nelle facce del dado e pertanto la sua probabilità si ottiene facendo casi favorevoli 2 su casi possibili 6 e pertanto è uguale a un terzo. L'evento unione di A e B è l'evento che si verifica se esce un numero pari oppure un numero multiplo di 3 Allora, osserviamo che la probabilità dell'evento esce un numero pari oppure esce un numero multiplo di 3 si ottiene sommando la probabilità di A più la probabilità di B meno la probabilità dell'evento intersezione da chi è rappresentato l'evento intersezione tra A e B? L'evento intersezione tra A e B è rappresentato dall'evento esce un numero pari multiplo di 3 osserviamo che tra i numeri pari vi è il numero 6 e tra i numeri multipli di 3 vi è il numero 6 pertanto la probabilità di A intersezione B ha come casi favorevoli solamente il numero 6 e quindi un solo caso favorevole su 6 casi possibili e quindi è uguale a un sesto Allora la probabilità di A unione B la calcolerò come un mezzo più che è la probabilità di A più un terzo che è la probabilità di B meno un sesto che è la probabilità di A unione B farò il minimo comune multiplo 6 e quindi 6 diviso 2 3 per 1 3 più 6 diviso 3 2 per 1 2 meno 1 3 più 2 5 meno 1 4 quindi la probabilità che esce un numero pari o multiplo di 3 è rappresentato da 4 sesti cioè 2 terzi osserviamo che se A intersezione B è uguale all'insieme vuoto l'evento impossibile i due eventi si dicono incompatibili e l'evento A unione B si calcolerà come probabilità di A più la probabilità di B un esempio di questo caso è il seguente supponiamo che l'evento A sia l'evento esce il numero 3 che ha come casi un numero minore di 3 che ha come casi favorevoli l'1 e il 2 l'evento B invece esce un numero maggiore di 5 che ha come casi favorevoli il 6 A intersezione B è rappresentato da un numero che sia contemporaneamente minore di 3 e maggiore di 5 ma tra i numeri minori di 3 e maggiori di 5 non ci sono casi favorevoli comuni e quindi A intersezione B è uguale all'insieme vuoto allora in questo caso la probabilità di A più la probabilità di B è uguale cioè la probabilità di A unione B è uguale alla probabilità di A più la probabilità di B e quindi si calcolerà come un terzo più un sesto evento contrario che cosa si intende per evento contrario di un evento? l'evento contrario di un evento A che si indica con questo simbolo è l'evento che si ottiene quando non si verifica che si verifica quando non si verifica A ad esempio e la probabilità di questo evento si calcola come 1 ma non la probabilità di A ad esempio l'evento A esce un numero minore di 3 A come evento contrario esce un numero non strettamente maggiore di 3 ma maggiore o uguale a 3 i casi favorevoli dell'evento esce un numero minore di 3 sono 1 e 2 invece i casi favorevoli di esce un numero maggiore o uguale a 3 sono 3, 4, 5 e 6 proprio per questo la probabilità di esce un numero minore di 3 è 2 sesti cioè semplificato 1 terzo la probabilità dell'evento contrario è uguale a 1 meno la probabilità di A cioè 1 meno 1 terzo facendo il minimo comune multiplo questa probabilità si può calcolare che è uguale a 2 terzi che cosa si intende per probabilità condizionata? la probabilità condizionata si occupa di calcolare la probabilità di un evento A sapendo che l'evento B e B si è già verificato allora il simbolo per indicare la probabilità condizionata è P di A condizionato a B facciamo un esempio ad esempio lancio un dado l'evento A dice esce un numero multiplo di 2 che ha come casi favorevoli il 2, il 4 e il 6 l'evento B dice esce un numero minore di 5 che ha come casi favorevoli 1, 2, 3 e 4 la probabilità di A condizionata B è la probabilità che esca un numero minore cioè multiplo di 2 sapendo che è uscito un numero minore di 5 i casi favorevoli di questa probabilità sono rappresentati solamente dal 2 e il 4 ma siccome so che è uscito un numero minore di 5 i casi possibili sono l'1 il 2 il 3 il 4 e pertanto questa probabilità ha come due casi favorevoli su quattro casi possibili e pertanto la probabilità è uguale a un mezzo in questo caso particolare la probabilità di A condizionata a B non è cambiata e corrisponde esattamente con la probabilità di A quindi sapere che si è verificato l'evento B in questo caso non ha fatto modificare la probabilità dell'evento A proprio per questo motivo questi eventi vengono detti indipendenti supponiamo adesso di lanciare un dado e che l'evento A sia esce un numero multiplo di 2 come nel caso precedente abbiamo che i casi favorevoli sono il 2 il 4 e il 6 invece l'evento B stavolta dice esce un numero minore di 4 in questo caso i casi favorevoli sono il 2 l'1 il 2 e il 3 per calcolare la probabilità di A condizionata a B stavolta devo calcolare la probabilità di A quindi che esce un numero multiplo di 2 sapendo che è uscito un numero minore di 4 se è uscito un numero minore di 4 è uscito o il numero 1 o il numero 2 o il numero 3 quindi i casi possibili sono 3 e in questi casi possibili l'unico multiplo di 2 è rappresentato dal numero 2 quindi ho un solo caso favorevole allora la probabilità che esca un numero multiplo di 2 sapendo che è uscito un numero minore di 4 è esattamente di un terzo che è diverso da un mezzo e quindi in questo caso la probabilità di A condizionata a B è diversa la probabilità di A se succede questo gli eventi vengono detti eventi dipendenti quindi abbiamo detto che calcolare la probabilità di un evento A condizionata al verificarsi di un evento B vuol dire calcolare una probabilità condizionata sapere che si è verificato un evento B può modificare la probabilità dell'evento A e in questo caso i due eventi si dicono dipendenti oppure può lasciare la probabilità dell'evento A invariata e in questo caso i due eventi si dicono indipendenti se gli eventi sono indipendenti la probabilità dell'evento intersezione cioè dell'evento che si verifica se tutti e due gli eventi si verificano contemporaneamente è uguale alla probabilità di A per la probabilità di B cioè al prodotto delle probabilità dei due eventi se invece i due eventi sono dipendenti la probabilità dell'evento A intersezione B è uguale alla probabilità di A per la probabilità di B condizionato ad A allora ad esempio facciamo un esempio supponiamo di lanciare due volte un dado il primo l'evento A dice al primo lancio esce il numero 6 l'evento B dice al secondo lancio esce il numero 5 vogliamo sapere qual è la probabilità di A intersezione B allora proprio perché i due eventi quindi in questo caso i nostri due eventi sono due eventi indipendenti infatti i due lanci sono due lanci indipendenti e nel secondo lancio il fatto che nel primo sia uscito il numero 6 non mi cambia la probabilità che nel secondo lancio possa uscire il numero 5 allora in questo caso la probabilità che al primo lancio esca il numero 6 e al secondo lancio esca il numero 5 è uguale alla probabilità di A che vale un sesto per la probabilità di B che vale un sesto quindi questa probabilità vale un trentaseiesimo supponiamo adesso di avere un mazzo di 40 carte e di estrarre successivamente due carte allora l'evento A dice esce una carta di spade quindi il nostro mazzo è un mazzo di carte siciliane l'evento B dice esce una carta di spade quindi io estraggo la prima carta che è di spade e voglio calcolare la probabilità che anche la seconda carta sia di spade ovviamente il fatto che la prima carta sia di spade fa sì che la probabilità dell'evento B si modifichi allora in questo caso i due eventi sono dipendenti e quindi la probabilità che entrambe le carte siano di spade è uguale alla probabilità che la prima carta sia di spade quindi è 10 quarantesimi per la probabilità che sapendo che è uscita una carta di spade anche la seconda carta sia di spade quindi quanto va la probabilità che anche la seconda carta sia di spade le carte di spade sono diventate 9 quindi 9 sono i casi favorevoli invece le carte possibili sono 39 e quindi la probabilità di A intersezione B è uguale